Le immagini, i collegamenti con gli inviati da ogni angolo del pianeta, tutto questo entra a casa vostra grazie ad un team di professionisti che consente a noi ogni giorno di entrare nelle vostre case. Mi ha sempre sorvogliosa di lavorare per la RAI, lavorare per il servizio pubblico, per me è una cosa fondamentale. Mestieri della TV, dal 25 settembre in esclusiva su RAI Play, molto più di quanto immagini.